Un'impresa in collaborazione con Polaris, l'azienda speciale per la cultura di impresa e con un finanziamento della Camera di Commercio di Salerno, ha voluto anche quest'anno offrire alle imprese del territorio salernitano una possibilità di aggiornarsi in modo professionale nei vari settori e nelle varie tipologie economiche che insistono nella provincia di Salerno. In particolare ci siamo dedicati a delle innovazioni nel campo della ristorazione dei pubblici esercizi con dei seminari dedicati al caffè espresso all'intaglio di frutta. Abbiamo pensato anche all'internazionalizzazione delle nostre piccole e medie imprese offrendo un corso della durata di un paio di mesi di inglese, di un inglese pratico per gli imprenditori che vogliono affrontare o iniziano ad approcciarsi al mercato estero. In particolare ci siamo dedicati poi a tutto ciò che è il mondo della meccatronica, quindi dell'automotive, offrendo al selezionato gruppo di imprenditori del settore meccanico la possibilità di avere un'abilitazione di primo grado presso il centro Renault di Roma per la messa a punto e la manutenzione delle auto elettriche che sono un poco il futuro del nostro paese. Quanto è importante la formazione in un momento storico del genere? Il ciclo di seminari l'abbiamo pensato proprio in risposta o in accompagnamento all'imprenditore che in questo momento sta verificando sulla propria pelle la crisi che è sempre più incalzante. Riteniamo come un'impresa ma interpretiamo anche il pensiero della Camera di Commercio di Salerno quando siamo convinti, quando riusciamo e affermiamo con forza che la formazione, l'aggiornamento professionale dell'impresa e dell'imprenditore è fondamentale per stare sul mercato per far sì che non si perdano delle fette di mercato proprie a vantaggio di chi si riesce a formare e ha una scaltrezza in più. Possiamo dire che i corsi sono gratuiti e quindi invitiamo le aziende e le imprese a partecipare a questi corsi perché può essere un surplus, quindi un modo in più per essere competitivi nel proprio settore. Questo è ovvio, sicuramente lo davo per scontato, che l'impresa non costa nulla, è tutto offerto e garantito dalla Camera di Commercio di Salerno che ha affidato previo bando a tre grosse aziende del settore della formazione specifiche per i vari seminari la esecutività degli aggiornamenti. è un ulteriore sforzo che la Camera di Commercio ha fatto a Salerno su proposta dell'associazione provinciale Un'Impresa affinché ci sia un ritorno economico sul territorio.